Buonasera, ben ritrovati con Decoder in questo appuntamento. Continuiamo ad occuparci dell'argomento che abbiamo già sviluppato la scorsa settimana. Quindi vi parliamo dello spopolamento della montagna ma anche delle possibili soluzioni. In studio con noi questa sera abbiamo il primo cittadino di Oneta, Angelo Dallagrassa. Buonasera. Buonasera. Il sindaco di Vilminore ma anche presidente della comunità montana di Scalve, Guido Giudici. Buonasera. Buonasera a tutti. E Michele Valoncini invece primo cittadino di Oltresenda Alta. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, vivere in montagna costa di più. Per chi risiede in città o ha il comune sguardo urbano-centrico, questa sembra una cosa più che normale. Eppure la montagna si sente dimenticata, come è stata anche dimenticata da Expo. Di cosa da dire ne avremmo tante. Nel corso di questa puntata vogliamo innanzitutto agganciarci al dato che abbiamo sviluppato la scorsa settimana, che è lo spopolamento del nostro territorio. Un fenomeno che è sicuramente secolare ma che ora con la crisi torna a farsi sentire. Vorrei portare alla vostra attenzione innanzitutto un dato che è relativo al numero delle nascite del 2015 presso l'ospedale Antonio Locatelli di Piario, perché arrivati al 25 di novembre, quindi a quest'oggi, i bambini nati sono 390. Con le stime in prospettiva per la fine dell'anno potremmo arrivare circa a 430-440 bambini. Speriamo che siano molti di più per avvicinarci alle 500 unità, che era anche quel limite che era stato un po' imposto dalla regione Lombardia negli anni scorsi e che negli ultimi anni comunque l'ospedale di Piario ha raggiunto e superato. L'anno scorso sono mancate proprio 4-5 bambini per raggiungere le 500 unità. Allora, questo è il primo dato che porto all'attenzione dei miei ospiti. Riprendiamo questo discorso dello spopolamento. Cosa vorreste aggiungere a questo tema, portando anche i dati relativi ai vostri comuni? Partiamo dalla grassa. Beh, direi che Onetta è, come dire, paradigmatico. Un paese che ha, si può dire, da 50-60 anni, subisce uno spopolamento repentino, continuo, inesorabile. Abbiamo una storia antica, la nostra, che è quella mineraria, per cui dei dati che abbiamo, grazie appunto all'azienda mineraria, la popolazione di Onetta era, avevamo addirittura nel 1951 1.127 persone. Alla data di oggi siamo 620, quindi c'è stato un cedimento veramente totale. e le ragioni sono tante. Ovviamente lo spopolamento non riguarda solo Onetta, riguarda quasi tutta la popolazione montana, fatta qualche rara eccezione di alcuni paesi che hanno avuto addirittura un incremento demografico. Però direi che Onetta rappresenta un po' un simbolo, come penso anche altri paesi, qui i miei colleghi sindaci lo potranno dire sicuramente. e le cause principali sono l'altimetria, per cui l'altezza, le condizioni climatiche, si sa, vivere in montagna è dura, l'insufficienza del reddito, perché la parcializzazione anche dei fondi, questo ha generato scarso reddito, e ovviamente anche il grave peso degli oneri tributari, perché purtroppo la montagna viene considerata come una pianura, quindi c'è una miopia assoluta e vergognosa, lo dico vergognoso e lo sottolineo, perché dal governo abbiamo questa considerazione di essere portati sullo stesso piano della gente che vive in pianura, e questa è veramente un'offesa alla montagna, ed è un peccato che lo deve dire qui pubblicamente, ma bisogna che lo si dica. Noi la montagna sappiamo che ha avuto un incremento demografico nel Medioevo, perché ovviamente aveva delle ragioni storiche, erano luoghi più protetti, ma oggi invece assistiamo a un doppio sviluppo, l'accedimento demografico, e lo sviluppo invece del fondo valle, per cui la gente si porta verso la valle, perché lì trova ragioni economiche migliori, e anche condizioni di vita migliori. Quindi queste sono le ragioni principali, poi se i miei colleghi, senza rubare troppo spazio, passerei la parola anche a loro, poi eventualmente ampliamo l'argomento. Sicuramente, ora giudici? Come diceva giustamente il collega sindaco, si evidenza facilmente che la popolazione è tanta quando c'è occupazione, quando c'è occasione di lavoro, quando la gente ci sta, vive discretamente bene, perché allora la richiesta del reddito c'era, quindi c'erano le miniere, c'erano che da noi. Noi basta pensare che nel 72, quando sono state chiuse le miniere della Val di Scalve, sia le tre miniere, poi c'era la Falc, Schimpario, la Ferromin, e poi l'altra, la Ferromin, la Manina, il minore, poi c'era quelle miniere di Coler, c'erano 571 minatori, e difatti i 571 minatori, al di là del reddito, avevano anche comportato quella che era la creazione e il mantenimento dell'ospedale, perché l'ospedale era nato, era nato sì, ma soprattutto ricordiamoci che per assistere agli incidenti sul lavoro, per cui c'erano frequenti gli incidenti, visto l'attrezzatura che c'era. Quindi come diceva giustamente Dalla Grassa, il problema è che prima ci deve essere occupazione, ma l'occupazione sappiamo che in montagna costa, costano i trasporti, le nostre aziende che per fortuna per il momento reggono, perché ribadisco che essendo titolari di queste aziende nati e residenti lì, tirano la lingua per terra, ma non cedono nonostante la crisi, anzi direi che stanno riassumendo. Quindi però costa, il 20-30% più dei trasporti, l'energia, il riscaldamento, la logistica, quindi creano tutto. E di fronte noi non abbiamo una risposta da parte di chi ci governa, da parte di chi osserva questa montagna, se non una valutazione che bei posti, ma poi dopo finisce che bei posti, che belle zone, come è bello vivere qui, appena piove fa freddo, se ne vanno. E le nostre aziende non sono così, messe in una condizione di lavorare alla pari di quelle della pianura, no? Per lavorare alla pari dovrebbero essere perlomeno detassate in maniera da pareggiare quello che è il gap di danni che hanno. Il discorso futuro è chiaro che poi in montagna vivere vuol dire anche andare a scuola, vuol dire avere i servizi, vuol dire avere, se mi sento male, va bene, noi adesso abbiamo fatto gli eliporti, quindi in dieci minuti siamo a Bergamo, però è un discorso abbastanza relativo, cioè la sicurezza di stare in montagna, di essere alla pari degli altri, e dire vado a scuola, i miei ragazzi per andare a scuola al liceo fanno 80 chilometri al giorno, che non sono dieci minuti di tram, fiocca, piove, cioè tutta una serie di svantaggi che noi sopportiamo, riusciamo per il momento anche a gestire difendendoci, che però hanno bisogno di un'altra adeguata considerazione, che al momento, al di là di alcune promesse, di alcune cose molto aleatorie, spesso non ci sono, cioè noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci dica, guardate che se tu vai in montagna, vabbè, sei in posti belli, sei svantaggiato, però è il però che dobbiamo quantificare. Michele Valoncini? Ma diciamo che la realtà di Oltresenda è una realtà un pochino diversa, nel senso che Oltresenda è un paesino rurale, assolutamente rurale. Diciamo che è stato salvato negli ultimi 30 anni dalla BBM, che era un'azienda, è un'azienda che produce mobili, arredamenti, e quindi questo aveva creato un minimo di, diciamo, di attività e quindi di famiglie che rimanevano in zona. Il discorso di Oltresenda è un discorso tipico della montagna rurale, cioè noi abbiamo un territorio di circa 17 km quadrati, quindi grande, arriva a 2600 metri di quota, abbiamo degli alpeggi che sarebbero degli alpeggi stupendi, che sono di proprietà comunale, 300 ettari, una proprietà del comune di Clusone, e sono 174 ettari, una proprietà privata che sono 284-85 ettari, quindi messi insieme sarebbe un complesso enorme. È un complesso, diciamo, che è inserito nella valle del Muskel e la prima cosa che mi era sembrato logico portare avanti era dire queste tre baite alte a 1800 metri, tre baite basse a 1500 metri, perché i nostri vecchi facevano le cose con una certa intelligenza, le baite basse erano alla stessa quota, le baite alte alla stessa quota. La prima cosa da fare è collegarle. Io ho parlato di queste cose, boh, niente, come per dire, ma no, ma no, le strade non si fanno, ma perché non si fanno le strade? Abbiamo le autostrade in città, abbiamo le metropolitane, abbiamo una serie di servizi enormi che costano miliardi, cosa ci vuole a fare le strade agro, silvo, pastorali in montagna che sono il basamento, la fondazione principale per poter usufruire di questi alpeggi e farli funzionare. Oggi, nella situazione in cui siamo, che c'è un ritorno alla montagna, oltre a Senda c'è anche il vantaggio di non essere giù nella valle, siamo in una posizione privilegiata, abbiamo il sole dalla mattina alla sera, abbiamo spazi, abbiamo pascoli, siamo inchiodati da queste regole e da tutti questi meccanismi. Le regole sono mentalità, perché le regole le fanno gli uomini e quindi quando la mentalità si cambia, si cambiano le regole. Infatti, per me era normale arrivato a fare il sindaco a oltre Senda di dire asfaltiamo la strada che da Spinelli arriva al Moschel perché arriva in una valle, non è che arriva in una baita, in una valle dove abbiamo 85 baite che possono essere gestite, possono creare diciamo lavoro perché portando le strade i boscaioli, le aziende boschive possono andare, tagliare e ritornare. La stessa cosa vale per il bestiame. Praticamente io mi trovo in una situazione dove nel 38 c'erano 570 persone, nel 60 328 sono calate drasticamente nell'85 e adesso siamo agli stessi livelli dell'85, 170 persone e adesso stiamo calando ulteriormente quindi saremo circa 163, 164 persone. si può secondo me con i mezzi che abbiamo oggi ritornare nella montagna. Abbiamo un esempio oltresenda dato da due ragazzi laureati che stanno portando avanti un buon un buon lavoro però noi abbiamo bisogno di avere molti di questi ragazzi che arrivano per arrivare devono avere determinati servizi che purtroppo non abbiamo e se non capiscono e qui non so se sono i politici burocrati che la montagna mettiamoli insieme che la montagna può sopravvivere e può sopravvivere anche la pianura perché se si incazza il padre eterno fa presto a portare giù un po' di roba anche a Bergamo e anche a Milano dipende se la montagna viene lasciata a se stessa viene a valle e quindi succedono disastri per tutti abbiamo visto disastri anche in Calabria quindi bisogna cambiare mentalità bisogna amare la montagna e conoscerla ritengo che l'incompetenza sia una cosa terribile più terribile di quelli che rubano perché fa più danni sicuramente ecco ci ha fornito anche un dato numerico della popolazione c'era anche il sindaco di Oneta che aveva un dato che sono sbaglio ci riporta a un valore del 1800 1861 noi torniamo sostanzialmente ai valori demografici dal 1500 conosciamo i dati da Zuan e D'Alezze che è questo famoso capitano di Bergamo fino al 1861 sono 550 persone noi siamo indirizzati a questo livello peraltro le famiglie attuali di Oneta sono 302 303 non lo so al tempo con la stessa popolazione le famiglie erano 125 quindi ci sono famiglie mononucleari nel senso che composti non sono una persona c'è anche questa situazione particolare che va evidenziata adesso richiamandomi a Vanoncini a aver fatto un passaggio importante sul discorso che la montagna è fondamentale per la pianura è per quello che dico abbandoniamo la montagna ci ritroveremo innanzitutto ci sono le risorse idriche fondamentali e quindi gli uomini che vivono in montagna hanno questa accortezza di regimare le acque di mantenere i muretti di tagliare i boschi di fare tutte quelle operazioni sì hanno questa voglia ma il potere spesso non c'è esatto ma il potere non c'è allora peraltro poi nel 2002 c'è stata la dichiarazione dell'anno internazionale della montagna ma è stata una demagogia una bella vetrina tu hai visto un politico ecco un altro elemento fondamentale che manca è il rapporto con la politica noi non vediamo più un politico qui in valle non so per quale motivo un tempo almeno c'erano questi veniva un deputato un senatore ogni tanto si faceva vedere siamo quattro gatti siamo quattro gatti elettoralmente non valiamo niente contiamo poco contiamo poco e questo è uno un altro elemento li vediamo spesso i politici in televisione a difendere le loro posizioni e basta e la montagna purtroppo viene dimenticata allora vorrei anche questa sera introdurre alcune interviste che abbiamo realizzato nei giorni scorsi ad esempio abbiamo sentito un altro primo cittadino di montagna il sindaco di Valgoglio Eli Pedretti che c'è anche un po' ricordato un po' anche qual è la responsabilità anche politica in questa situazione sentiamo innanzitutto mi auguro che a Roma si rendano conto che i costi della montagna o chi vive in montagna sono tre volte rispetto ai costi della pianura questo vale sia per le opere pubbliche sia per quanto riguarda dei trasporti sia per quanto riguarda il normale vivere se a valle o in pianura si usano due mesi tre mesi all'anno i caloriferi qui si usano esattamente nove mesi all'anno quindi c'è già un costo le manutenzioni sono esagerate naturalmente i trasferimenti dallo Stato ai piccoli comuni o alle province sono diminuiti non parliamo poi delle province che sono in questo momento considerate nel limbo non si sa ancora esattamente quali sarà il loro futuro o che futuro avranno sia come personale sia come competenze sia come liquidità siamo veramente in una situazione molto difficile naturalmente il problema è l'economia speriamo una volta c'era chi credeva nello sviluppo turistico costruendo le seconde terze quarte e quinte case adesso naturalmente chi ha due case si pente di aver investito anche nella seconda casa per le famose tasse auguriamoci che almeno su alcune di queste case il comune si decida di togliere o soprattutto si decida a mantenere in maniera dignitosa la vita di coloro che tengono in piedi la montagna perché come ben noto se la gente a montagna se ne andasse rimarrebbero nell'arco di 4 o 5 anni solo rovine e disastri e anche per il turismo sarebbe veramente la fine mi auguro veramente che cambi la politica soprattutto dello Stato ma soprattutto anche della regione e dei rappresentanti della regione che facessero quadrato attorno alle valli perché come ben sapete ci sono ancora 23 comunità montane anche se in effetti sono 30 camuffate a 23 e 23 comunità montane vuol dire un milione e mezzo di persone che vivono ancora in alta quota non è sempre un bel vivere non è come oggi una bellissima giornata fortunatamente non c'è la nebbia ma c'è neve freddo e disagio anche i trasporti per chi va a scuola non sono semplici e facili i collegamenti sono stati tagliati per ridurre i costi noi abbiamo cercato attraverso i canali burocratici di ripristinare alcune vie naturalmente c'è stato risposto picche oppure pagate ormai si tratta solo e semplicemente questioni di denaro il costo ormai tutto ha un costo i servizi vanno pagati questa non era la filosofia di una volta dove chi era più debole doveva essere aiutato dalla comunità la comunità intesa come comunità ok noi ora ci fermiamo per una breve interruzione torniamo subito tra poco allora riprendiamoci Guido Giudici che voleva intervenire anche dopo quanto abbiamo appena sentito dal primo cittadino di Vargoglio voglio precisare una cosa che l'ultima riunione in regione avevo chiesto che siccome le comunità montane sono 23 dice 30 camuffate a 23 ma la comunità montane dovrebbe essere 6 perché ho chiesto in regione che è ora di finirla giustamente dice che è un milione e mezzo ma questo milione e mezzo non vive in montagna effettivamente basterebbe togliere di via come ho detto in regione le terre di mezzo lasciando solo la montagna veramente perché i finanziamenti che arrivano alla montagna che devono essere distribuiti a un milione e mezzo mentre in definitiva sono poche decine di migliaia che avrebbero diritto nella logica del frazzonamento quindi anche la parte politica locale alcune cose dovrebbero risolversele quindi questo è un discorso l'altra cosa che volevo dire è che quando suggeriva anche in montagna di togliere alcune tasse sulla casa giusto il suggerimento occhio però perché nel calcolo dei fondi di trasferimento lo Stato fa il calcolo di quanto ti deve rendere l'Imu sulle seconde e se tu tu puoi togliere ma loro te le tolgono comunque la loro parte quindi dal punto di vista contabile il discorso è che il cane che si morde la coda tolgo ma in compesso mi arriva anche a meno dal punto di vista dello Stato quindi attenzione perché alcuni movimenti ti accorgi dopo che sono deleteri tu hai l'illusione di fare un vantaggio alla fine stronchi i trasferimenti e quindi poi devi chiedere i soldi della gente quindi occhio perché alcune cose vanno definite e quella quando dice che dovrebbero essere sei in regione di Lombardia le comunità montane intende una comunità montana per provincia soltanto per essere chiari in provincia di Bergamo devono essere la Val di Scave l'Alta Val Seriana e l'Alta Val Brembana insieme soltanto però le terre alte che arriva a Ranica abbiamo finito la messa perfettamente sulla distribuzione anche dei fondi della produzione elettrica per dire che ne godono anche quelli che vivono in pianura la ripartizione dei fondi del BIM si ma specificando che le centrali ce le hanno in montagna non le hanno in pianura dove prendono i soldi quando abbiamo fatto la polemica noi del BIM con gli altri del BIM dell'olio la famosa polemica noi siamo quattro comuni contro 47 quindi la votazione chiaramente perdiamo ma le centrali le abbiamo noi cioè il far dire che giufruire le centrali producono reddito che viene distribuito a 70.000 abitanti non mica capito però vediamo un attimo di avere le idee chiare un po' la colpa è nostra di queste situazioni in cui forse non siamo capaci di risolvere sono stati sufficientemente cattivi ecco esatto allora continuo a impegnare Guido Giudici riagganciandomi a quella che è stata un po' la provocazione della puntata della scorsa settimana quando abbiamo tentato di immaginare addirittura una Livigno in Valle di Scalve usiamo il termine il nome di queste cittadine per rappresentare semplificare un centro defiscalizzato in teoria la Valle Piccola si potrebbe sperimentare dal punto di vista anche dal punto di vista pratico potrebbe avere un vantaggio economico locale e dei territori adiacenti in teoria ci sta ma tu ho conto che mi auguro che nel prossimo intervento della comunità europea che va a favorire alcuni enclave di montagna riusciamo ad inserirci noi faremo di tutto per inserirci perché questo potrebbe dire di dare una valutazione dare un'immagine di quello che si può fare quello che si dovrebbe fare esemplificarlo perché io quando mi vengono a dire in montagna dovete fare questo questo e questo ma ce lo dicono gli altri io dico sempre venite su e provate se funziona noi ci adeguiamo però lo dicono ma poi quando si tratta di metterlo in pratica no la defiscalizzazione avrebbe senz'altro un notevole vantaggio può essere anche pareggiata con la detassazione ma tutto un discorso dal punto di vista dal punto di vista d'approccio contabile economico è chiaro che se vogliamo salvare quelle che sono le nostre zone poter avere i soldi per fare le strade poter avere anche poter avere anche una capacità di programmare avere le risorse però secondo me va aggiunto un'altra cosa che noi sul nostro territorio dovremmo decidere noi che cosa fare non è che abbiamo bisogno di due anni di procedure per fare un accesso a una strada non è possibile cioè continuiamo a autocastrarci in questa situazione di proposito la defiscalizzazione andrebbe incontro alle aziende andrebbe incontro a chi vive lì andrebbe incontro alla possibilità di incrementare le nascite perché la gente può vivere parimenti come vivere in città e spende di più ma gli viene così retribuito la differenza e il gap e quindi a questo punto il discorso come esempio potrebbe essere fatto quindi anche perché 4.523 abitanti si fa presto a gestirli anche dal punto di vista per quanto riguarda le aziende o gli accessi o le strutture economiche cioè si potrebbe un po' anche giocare sul fatto che proprio sulla Costituzione italiana si ricorda che bisognerebbe avere anche un occhio di riguardo sulla montagna cosa che forse qualcuno ha dimenticato avevamo i nostri parlamentari allora giù cioè parlamentari della montagna diciamo pacati tanto per fare nome e cognome Vannoncini vedo che stringe tra le mani una carta sì la carta di Milano la carta di Milano per la montagna io me la sono letta mi sono arrabbiato ma arrabbiarsi è dire poco però normalmente cerco di essere positivo leggendo alcune cose pensando all'11 dicembre 2003 che era la giornata internazionale della montagna assicurare una miglior qualità di vita e uno sviluppo sostenibile a favore di milioni di persone che vivono nelle zone di montagna è una barzelletta perché se dal 2003 avessero applicato un minimo qualcosa di concreto su quello che loro scrivono noi in montagna saremmo delle persone felici perché avremmo quello che serve per vivere in montagna e si può vivere in montagna sono convinto che con la tecnologia con l'informatizzazione che abbiamo oggi bisognerebbe prendere parecchia gente dalla metropolitana dalle città metropolitane e portarle in montagna vivrebbero meglio avremmo meno spese sicuramente di psichiatri eccetera e avrebbero la possibilità di lavorare tranquillamente come si vive in città non avremmo percorsi stradali lunghi non avremmo tutti questi disagi che ci sono però bisogna secondo me cambiare strategia sulla montagna la montagna va capita per capirla bisogna viverci e non si può decidere la sorte della montagna rimanendo seduti in una scrivania a Milano perché chiaramente per loro noi siamo siamo microbi ma non si rendono conto che di questo passo andando avanti di questo passo anche le città metropolitane ne risentiranno ma molto perché oltresenda da l'acqua a metà dell'alto piano diamo l'acqua a tutti non abbiamo un vantaggio non abbiamo un vantaggio abbiamo cercato di fare una centrale idroelettrica c'è stato c'è stato un grande affare e poi a un certo punto le cose si sono messe talmente male e per varie ragioni non si sono potute fare questa centrale idroelettrica che avrebbe portato oltresenda 250 mila euro all'anno per noi sarebbe stata una cosa stupenda adesso io dico o sburocratizziamo perché la cosa più brutta che io ho trovato venendo a fare il sindaco oltresenda abituato a lavorare diciamo nel privato sono partito con la mia educazione diciamo di 40 anni di lavoro nel privato pratico e quindi ho detto risolviamo questa cosa facciamo così facciamo così per l'amor di dio ho detto fermo vannoncini perché altrimenti ti mettono in galera ma come si fanno le cose di buon senso se io devo mettere a posto una strada la metto a posto non posso pensare che devo aspettare due anni e devo fare sette pratiche che mi costano di più della strada che devo mettere a posto è questo l'assurdo della nostra situazione e io sono un battitore libero qualche volta mi veniva la voglia di fare e forse l'ho anche fatto ma io penso che nessuno sarà in grado di criticare se io metto in sicurezza 50 metri di strada dove la settimana prima un trattore mi si è ribaltato con 200 quintali di legno mi si ammazza la gente cioè è questo che io non capisco per fare questo bisogna che la gente intanto in montagna devono starci chi ci lavora e chi ci vive quelli che vengono da Milano va benissimo però loro pretendono di avere una montagna pulita bella col sole adesso poi con le previsioni precise se non c'è il sole non vengono però quando vengono vogliono vedere tutto pulito tutto ordinato divertirsi e poi ritornare a Milano questa roba qui è una cosa che va bene quando noi abbiamo tutto il resto abbiamo chiesto noi in passato quindi quando uscì allora nel 2003 come fare a finanziare la montagna abbiamo fatto la proposta di avere il 2% degli oneri di urbanizzazione delle città metropolitane dirottate nei paesi dissero di sì ma poi si era e no per cui il vantaggio di respirare l'aria buona il vantaggio di tutto veniva controbilanciato da un apporto economico di chi contribuiva comunque a rendere le strade pulite ordinate e poi non si può prescindere dalle strade io qui non capisco l'altro giorno ho visto un servizio su Cuneo sulla zona diciamo vicina alla Francia dove a 2000 metri gli alpeggi ordinati belli centinaia di mucche che pascolavano tranquillamente la transumanza fatta su una strada asfaltata eravamo a 2000 metri asfaltata con le due righe bianche a fianco la macchina davanti le mucche dietro facevano le loro tre ore ma se l'alpeggiatore può salire con l'auto può vivere da cristiano qui da noi gli alpeggiatori altro che pagare l'alpeggio dovremmo essere noi a pagarli per farli venire su e farli lavorare in condizioni che non sono umane e questo deve essere capito avrete capito che le strade sono il cavallo di battaglia del sindaco di oltre essendo alta ma 2000 anni fa i romani la prima cosa che facevano era un estrane perfetto volevo sentire anche dalla grassa che abbiamo lasciato in ascolto su questa parte è un piangere generale perché voglio dire non sono solo io che piango piangiamo un po' tutti io direi che comunque nel nostro piccolo un'età ha anche delle attività economiche parlo di un esempio pratico abbiamo una frazione di Chignolo bellissima veramente una delle più belle frazioni dei luoghi che ha un'età ci sono due attività economiche c'è un bar un ristorante che purtroppo a fine di quest'anno chiuderà i battenti ma queste persone qui che conducono hanno condotto questa attività familiare bisognerebbe dare dei contributi non fargli pagare le tasse è quello che dico non è pensabile non è immaginabile che in luoghi come questi che sono fuori dall'asse viare principale che comunque fanno un enorme sacrificio per tenere in piena l'attività fa pagare anche le tasse come che lì pagano a Ranica o ad Albino che è un bar aperto lì fa anche un servizio sociale è un servizio sociale fondamentale per quello che dico se vogliamo evitare e contrastare lo spopolamento bisogna che la montagna venga aiutata allora noi vogliamo non vogliamo essere oggetto di tutela vogliamo essere soggetti attivi in montagna vogliamo essere propositivi e non vogliamo essere il luogo come dire la riserva degli indiani perché poi alla fine va a finire così perché a un certo punto certo quelli che vengono da Milano trovano i luoghi a Meni c'è il sole c'è tutto quello che è il bel paesaggio ma due giorni fa è nevicato molti non sanno nemmeno che è nevicato ma io ho dovuto attivare le macchine perché ho dei fabbricati fino a 1300 metri e questi sono costi enormi in un piccolo paese una piccola comunità con pochissime risorse nel giro di 5 anni la comunità lo Stato ha tolto 130 mila euro dopo ditemi voi come si può a un certo punto uno viene volo di prendere le chiavi e portarli a prefetto oltre il sede dallo Stato abbiamo all'incirca 34 mila euro e ce ne hanno portati via altri 6 mila quest'anno cioè nonostante questo stiamo lavorando perché io sono convinto che un comune piccolino come il Tresenda però può dare qualcosa anche dal punto di vista turistico ma non il turismo visto come lo vede certa gente il turismo che vedo io e che vediamo noi nella nostra valle è un turismo di chi ha passione alla montagna e quindi si dedica con passione a camminare a fare trekking a fare eventualmente sci di fondo a ciaspolate se c'è la neve non è certo un turismo di massa un turismo di brato e di d'orga insomma tanto per fare un esempio Giulio ci voleva aggiungere qualcosa? poi riferendo a cosa diceva lui anche perché poi il problema dei piccoli negozi era stata fatta una proposta alcuni anni fa che secondo me in alcuni piccoli piccole frazioncine poteva essere portata avanti che era quella che in ogni piccolo agglomerato tipo di 150-200 persone dove un negozio non sta in piedi dal punto di vista economico venissero obbligati le grandi distribuzioni ad avere dei satelliti in giro di riferimento in maniera che io faccio un supermercato dico a Clusone però io ho tre dependenze lancio una Valgoglio una oltresenda cioè in maniera da avere che i negozi sono poi gestiti magari ma facendo riferimento economico e gestionale al supermercato centrale questo secondo me forse poteva essere la maniera di salvaguardare la presenza di un negozio la presenza di utilizzare le persone lì e costringere come partita di ritorno da parte dei supermercati nell'organizzazione poi non se ne fece più nulla però su alcuni paesi la mancanza di un negozio vedo anche da noi perché ad esempio alla Nona noi abbiamo una coppia cooperativa che sta in pieno cooperativa di abitanti di che sta in piedi poi il comune chiaramente un supporto glielo deve dare perché altrimenti sono 8-9 km per andare a prendigionare il pane quindi non sta in piedi economicamente però qualcosina si riesce a dare forse organizzandosi come queste piccole delocalizzazioni potrebbe essere un significato anche funzionale certo perché è indispensabile poi abbiamo anche l'invecchiamento della popolazione proprio dovuto al fatto che ad esempio sempre esempio del più piccolo paese della Valseriana quindi non è che possa fare testo però noi abbiamo un invecchiamento forte della popolazione e purtroppo tutti i nostri giovani che strato sono molto scolarizzati quasi tutti i laureati e diplomati se ne vanno via cioè quello che io ho notato e sono a oltresenda da 40 anni ormai non fisso ma diciamo tutto il mio poco tempo libro lo dedicavo a oltresenda e non so si è riuscito da parte della mia generazione a riuscire a far capire ai figli che tutto sommato la montagna pur con la fatica poteva dare di più poteva aiutare anche questi figli anche scolarizzati a rimanere purtroppo questo non è successo e non sta succedendo e credo che sia un problema veramente grosso per cui bisogna che la gente venga da fuori per cui quello che vorrei fare per esempio io ho notato in questi ultimi anni ho delle richieste enormi veramente dico di scout che vogliono venire a passare delle giornate quindi sono ragazzi giovani gente che apprezza il posto e può darsi che qualcuno si fermi addirittura quest'anno è arrivata una richiesta dal Belgio di 60 ragazze che vorrebbero fare tutto il mese di luglio cercherò in tutti i modi di farli venire perché io penso che dobbiamo veramente portare gente da fuori perché un meccanismo strano di odio amore con il proprio territorio ha portato anche a questa non passione dei giovani alla montagna e questo è un problema importante ma dobbiamo fermarci un secondo per una breve interruzione tra poco torniamo in onda e ora volevo proporvi un'intervista al presidente del parco dell'Europia bergamasche Ivan Cacci il parco dell'Europia è un ente importante per il nostro territorio non si può parlare di montagna del vivere in montagna senza ricordare anche l'importanza dell'ambiente stesso sentiamo ma ne abbiamo già parlato in un vostro speciale pare decoder poco tempo fa credo ci siano due aspetti fondamentali tra l'altro sui quali come parco dell'Europia stiamo intervenendo uno è quello della formazione professionale della scuola perché la scuola rende coscienti anche di questo concetto cioè che si vive in luoghi particolari e quindi ha bisogni particolari bisogna creare delle condizioni particolari per continuare a vivere e l'altro invece è quello dell'investimento pubblico chiaramente pubblico che tante volte si sovrappone e dovrebbe andare d'accordo con quello privato per interventi che riguardano le diverse tipologie di attività lavorative della montagna non parlo solamente dell'alpeggiatore ma anche delle attività artigianali commerciali è chiaro che la lontananza da centri di importanza maggiore quali le città dove c'è una alta concentrazione di servizi penalizza e penalizzerà sempre le cosiddette terre alte come a me piace chiamarle sulla scuola la scuola è importante avere centri e dei poli scolastici vicini credo tra l'altro poli scolastici quanto meno nella nostra realtà che funzionano davvero molto bene per quanto riguarda il polo scolastico Fantoni ma anche in media valle il polio di Gazzaniga oppure quello di Lovere e quindi questo per i nostri ragazzi è già una fortuna ma credo che dal punto di vista lavorativo sia importante avere anche un centro di formazione professionale come quello di Clusone che mi ripeto noi stiamo aiutando anche dal punto di vista finanziario è pronto ad esempio una notizia degli ultimi giorni è pronto un finanziamento di 5.000 euro da parte del Parco delle Orobie al centro di formazione professionale di Clusone per il corso di agricoltore di montagna per l'acquisto di attrezzature che servono alla loro attività professionale a far allenare sul campo veramente i numerosi ragazzi che sono iscritti a queste prime due annualità del corso che è partito due anni fa a Clusone ma sempre per il CFP sempre per questa attività di agricoltura in montagna ad esempio abbiamo scritto in giorni scorsi lanciando l'idea di partecipare a un bando regionale per orti urbani per i urbani e ricadenti in zone di tutela oppure riservati istituti professionali istituti scolastici anche lì una risorsa economica regionale che abbiamo suggerito alla scuola per farla partecipare a questo bando perché ci sembra importante che all'attività didattica si abbini anche l'attività di tipo manuale è chiaro che è più importante di tutti però riguarda comunque l'investimento pubblico in opere credo che la regione stia forse arrivando a dare una svolta decisiva a un tema importante come quello viabilistico con la variante di Cerette mi giungono delle indicazioni favorevoli in tal senso da parte di regione per cui potremmo avere già una novità davvero importante perché il tema viabilistico con i trasporti è il tema prioritario per chi vive lontano dai centri più grossi però anche il semplice investire in attività imprenditoriali dove il privato ci mette del suo ma dove anche il pubblico fa una grossa parte come ad esempio a Bricconi di Oltrasenda Alta che mi piace citare come caso eclatante di intervento dove il pubblico e il privato andando a braccetto senza guardarsi troppo alla lontana ma ripeto andando proprio a braccetto investendo delle risorse stanno creando non solo occupazione per il titolare della impresa ma stanno facendo diventare questa contrada che era pressoché abbandonata un possibile polo ricettivo davvero di importanza soprattutto anche nella qualità del lavoro di agricoltura e della produzione di prodotti tra l'altro voglio davvero spezzare una lancia a favore di questo imprenditore che sta mettendo anche del proprio capitale perché è giusto che in queste operazioni il privato ci metta anche del proprio capitale soprattutto se ce n'è quello del pubblico e il parco dell'Europa ad esempio qui ha fatto la scelta di far diventare bricconi investendo su un fabbricato e adibendolo a centro parco un punto di diciamo così didattico di svolgimento di lezioni anche didattiche dedicato proprio alle scuole ecco la linea di congiunzione tra l'investimento nella scuola e nell'investimento nel mondo del lavoro allora anche Ivan Caccia parla di strade abbiamo sentito che ci sono probabilmente novità che riguardano la variante di Cerete forse allora la regione sta recuperando le risorse per questo importante nodo stradale poi ricordiamo che in Valle Seriana c'è anche il nodo di Ponte Nossi ci sono quindi queste due situazioni che attendono da tempo una soluzione e poi collega la formazione con il mondo imprenditoriale in modo particolare giovanile Paroncini cosa vuole integrare visto che si parla di Bricconi ma visto che si parla di Bricconi chiaramente noi abbiamo avuto un notevole aiuto da parte del Parco dell'Europa attraverso la Carplo quindi sono 240 mila euro che vengono investiti in una ristrutturazione diciamo esterna una riqualificazione diciamo della contrada io avrei avuto idee leggermente diverse però buona cosa anche questa sicuramente però adesso a monte finito questa prima fase se ne inizia un'altra tra poco però per poter usufruire di questo bene che è un grosso bene bisogna reinvestire proprio nel creare l'appartamento nel creare il locale dove ci sarà la ristorazione e da parte dei ragazzi di Giacomo Perletti dovrà realizzare una stalla nuova che partirà penso a primavera per 15 animali lui ha scelto la Bruno dell'Alto Adige una mucca diciamo un pochino più ridotta ma più adatta a questo nostro di grasso nell'altro superiore all'altra esatto e questo così la Bruno Alpina la Bruno Alpina però Perletti ha fatto una scelta secondo me molto importante tra l'altro ho letto un articolo su un giornale di Sondrio su questa su questa sua diciamo impostazione che mi è piaciuto molto perché da proprio l'idea di quello che un giovane laureato specializzato in un certo campo vuole partire a 26 anni comincia 5 anni che è lì e adesso ha fatto dei grossi sacrifici però abbiamo già un parco di 10-12 mucche e quindi sta veramente lavorando è chiaro avrà commesso i suoi piccoli errori perché è un ragazzo di 29 anni però si sta impegnando veramente forte e ritengo che nell'arco di un paio d'anni potremmo avere veramente un esempio che potrebbe e dovrebbe essere seguito da tanti altri anche perché noi abbiamo del territorio che se non viene mantenuto il discorso è semplice credo che sarà il problema degli altri paesi noi abbiamo dei pascoli e dei prati grandissimi ormai siamo ridotti al lumicino continuano a stringersi addirittura giustamente mi diceva l'alpeggiatore se qui non ci siamo noi le piante vi vengono in casa ma è una questione di 10 anni non c'è bisogno di aspettare 100 anni per cui proprio lavorare in questo senso cercare di riportare un'agricoltura un'allevamento delle case vacanze in modo che la montagna veramente deve risorgere e oggi siamo nelle condizioni di poterlo fare pur nella crisi anzi forse la crisi potrebbe essere uno stimolo per poter ritornare nel 1600 c'erano 340 persone nel 1600 quindi adesso siamo persone che vivevano di montagna vivevano certo e non avevano né riscaldamento quindi però vivevano e noi siamo il frutto perlomeno di queste persone e non possiamo buttare a mare il lavoro fatto in centinaia di anni perché adesso certi settori del nostro così certi ambientalismi che sono forvianti e sono assolutamente fuori di testa pretenderebbero di avere le stradine pretenderebbero di vedere l'asino con sopra ancora il contadino con le scarpe bucate perché questo è caratteristico cioè queste cose qui sono assurde nel 2015 bisogna lavorare in un certo modo si può fare e dovremo arrivare a questo se no non ce la facciamo dalla grassa prima dell'introduzione ci stiamo un po' occupando anche forse dell'approccio culturale che c'è stato negli anni scorsi anche un approccio educativo verso i giovani e quanto è stato tramandato loro anche dell'immagine della montagna forse questo ha portato anche a favorire il loro trasferimento o il fatto che poi i loro orizzonti si siano allargati cosa vuole dirci a proposito sicuramente l'aspetto culturale è un valore importante fondamentale direi nel nostro piccolo chiamiamolo così iniziative ne abbiamo fatte diverse per favorire questa conoscenza del territorio per valorizzarla perché ci sono luoghi spazi ambienti del nostro comune che sono assolutamente sconosciuti io praticamente il territorio nel Dianic per cui sono stato sindaco l'ho conosciuto si può dire come le mie tasche e ho la percezione che se si andasse in certi luoghi con qualità e capacità come dire di ripresa con delle telecamere noi vedremmo delle immagini e dei documentari sull'ambiente sul patrimonio naturalistico che abbiamo che sono paragonabili a certi documentari che si fanno nel Canada o in altri posti perché veramente abbiamo un territorio meraviglioso ai ragazzi è stata data una serie di informazioni abbiamo un museo etnografico scientifico che è in pro lab come chiamiamolo così in questa parola inglese con il centro appunto da cui si dipartono poi varie iniziative percorso diciamo naturalistico percorso della fede perché abbiamo anche tante chiese abbiamo anche un patrimonio come dire culturale che è in queste chiese che è notevole e poi abbiamo adesso in apertura un tratto di miniera che lo porteremo praticamente in conclusione in questi giorni come consorzio minerario è tutta una serie di iniziative di proposizione di propositive sul piano culturale per far conoscere e amare la montagna è un peccato perché poi vabbè le scuole certamente fanno la loro parte ma sicuramente c'è un po' come dire di sedentarietà nei ragazzi oggi per cui tanto tablet tanto whatsapp abbiamo un impianto sportivo che è lì si può dire 9 di zecca non vediamo mai nessuno giocarti tirano un calcio a pallone noi giocavamo sul selciato non avevamo nulla qui ci sono impianti sportivi nuovi non vediamo un ragazzo che tira un calcio a pallone evidentemente c'è un cambiamento culturale che forse non va proprio nella giusta direzione certamente progresso strade tutto quello che occorre e sviluppo e lo sviluppo deve essere però indirizzato nel momento giusto non nell'effimero ma in quello che è la sostanza in questo modo noi salviamo la montagna diversamente siamo perduti giudici una risposta anche alla formazione la formazione sì che è importante voi sapete che se non sapete che noi in Val di Scalve per evitare questa dispersione scolastica di chi non aveva né voglia di andare a fare 80 km al giorno noi abbiamo un biennio statale polivalente che è unico l'unico in Italia ce l'abbiamo solo noi per le superiori polivalente contiamo stando a quando abbiamo unicato il ministero il MIUR che forse forse riusciamo a introdurre dei corsi per l'occupabilità di qualificazione dei ragazzi per quanto riguarda le nostre aziende cioè da un corso professionale c'era stato proposto ma i nostri ragazzi io mi servivano 11 ragazzi ne ho trovati solo 9 quindi non ce l'hanno fatto e snovo il ministero però pare che comunque adesso questa proposta con un finanziamento apposito per i due poli in provincia di Bergogli che uno aveva il minore di 750 mila euro per finanziare delle operazioni di occupabilità sui ragazzi vediamo un attimino perché potrebbe crearsi un problema col biennio quindi vediamo un attimino come però la formazione va fatta ai nostri ragazzi perché questa è la premessa per tenerli lì perché è giusto vanno via fanno il liceo vanno in università si laureano poi trovano amoroso torno più indietro noi ci troviamo abbiamo speso soldi per mandarli via quindi adesso stiamo spendendo soldi per tenerli i ragazzi che comunque magari non ambiscono diventare dei Nobel laureati ma che però ambiscono essere preparati per la vita vediamo se ci riusciamo una scommessa aperta e noi ci contiamo e questa è sicuramente una scommessa quella educativa nei giorni scorsi in modo particolare all'interno del consiglio comunale di Clusone di sabato abbiamo sentito una proposta che è stata avanzata dal consigliere di minoranza Francesco Moioli che è arrivato a paventare perché no anche la possibilità di poter aprire un corso dell'università degli studi di Bergamo dedicato alla montagna ma a Clusone in montagna anche questa potrebbe essere una via per cercare di valorizzare il nostro territorio e far capire ai giovani che anche per vivere in montagna bisogna prepararsi e c'è anche un livello superiore che si può raggiungere se non sbaglio in Valle Camonica c'è un'esperienza simile e ci sono l'università della montagna dei giovani che operano sul nostro territorio che hanno frequentato questi corsi e ho una ragazza di oltresenda che gli sta laureando quindi ci sono anche degli obiettivi che si possono raggiungere adesso in Valle di Scalve forse non c'è un corso dedicato alla montagna no adesso non è che abbiamo molti ragazzi in Valle di Scalve cioè ce li giochiamo ma non è che ne abbiamo centinaia non nascono molti potrebbero venire da fuori a frequentare esatto l'idea nostra è di essere attrattivi dai fuori potrebbe essere una risposta anche questa nulla un po' quello che abbiamo sentito poco fa era anche la riflessione culturale sul fatto che nelle scorse forse le generazioni precedenti non abbiano valorizzato appieno il vivere in montagna forse questo è stato un errore noi abbiamo vissuto la modernità pensando che l'andare in città vivere in città fosse il meglio della vita e abbiamo sbagliato concordo pienamente con il dottor Giudici dovrebbe riuscire a tornare un po' indietro da questo ma la situazione attuale credetemi io penso che e c'è anche una statistica che dice che i giovani stanno ritornando alla montagna perché abbiamo anche tutto un problema di questo tipo sugli appennini nel mezzogiorno d'Italia paesi che sono morti e che probabilmente risusciteranno mi auguro che risusciteranno perché in fin dei conti la gente deve mangiare e siamo in una situazione che non è poi così così rosea quindi il ritorno se è fatto non costretto ma fatto veramente con volontà potrebbe dare molte soddisfazioni anche ai giovani anzi particolarmente ai giovani però bisogna creargli una situazione giusta è quello che manca speriamo davvero che quindi si possa fare questo percorso all'inverso questo sarebbe davvero importante io ringrazio i miei ospiti per la partecipazione e tutti voi che ci avete seguito da casa per l'attenzione grazie e buona serata a tutti grazie a lei grazie a tutti